Corsi formativi per imparare a cantare o suonare uno strumento, sezioni professionali per provare a fare della musica e il proprio lavoro, ma anche opportunità per i più piccoli che possono avvicinarsi alle note in modo giocoso a partire dai sei mesi di età. La nuova scuola di musica Vassura Baroncini di Imola, nella stagione che coincide anche con i festeggiamenti per il quarantennale, presenta l'anno scolastico 2019-2020 con numeri in costante aumento. Dati molto lusinghieri, con un aumento degli iscritti, abbiamo superato le 500 unità, con un aumento anche della fascia dei piccolissimi. Cominciamo i corsi da sei mesi fino a 70 anni, abbiamo iscritti di tutta l'età. La scuola svolge questa attività importantissima, sia di alfabetizzazione, cioè di far muovere i primi passi nel mondo della musica, ma anche abbiamo le possibilità di seguire anche corsi professionali. Abbiamo un corpo insegnanti strepitoso, proprio che si dedica in maniera molto forte alla formazione di questi giovani e meno giovani, perché la forza di una scuola è fatta dai suoi insegnanti. Dal 5 al 7 settembre si svolgeranno gli open day, mentre per le iscrizioni c'è tempo fino al 16 settembre.